Buongiorno a tutti i telespettatori di Udinese TV e ben trovati in diretta a questa edizione di pranzo del nostro TG. Il bollettino giordaniero sull'andamento dell'epidemia di Covid-19 nelle prossime settimane è destinato a cambiare, lo ha sottolineato il sottosegretario della salute Andrea Costa intervenendo in una trasmissione televisiva Sky TG24. Credo si tratti più di una scelta politica che di una scelta scientifica, ha detto ancora Costa. Troviamo questa notizia in primo piano in questo momento anche sull'agenzia ANSA. Costa ha sottolineato anche la necessità di rivedere e riflettere, appunto come leggiamo nel titolo, sull'Italia a colori. Queste le notizie principali, la notizia in primo piano in questo momento sul sito dell'agenzia che sottolinea come negli ultimi giorni, nell'ultima settimana ci sia stato anche un record di somministrazioni di vaccino. Quattro milioni e mezzo di dosi dal 10 al 16 gennaio, un livello mai raggiunto finora che ha sorpassato di quasi mezzo milione di vaccini il precedente record. E intanto si continuano ad analizzare i dati che vengono pubblicati quotidianamente dalle varie realtà, dal Ministero della Salute, dati poi analizzati anche dagli esperti e tra questi c'è anche il matematico Giovanni Sebastianelli del CNR, secondo il quale è stato oltrepassato il picco della percentuale dei positivi ai test molecolari che ora decresce e ci si avvia invece verso il picco del numero totale dei positivi. Accelera la curva dei decessi ma non avviene lo stesso per la curva degli ingressi nelle terapie intensive, probabilmente a causa delle manifestazioni cliniche diverse della variante Omicron. I dati aggiornati al 16 gennaio permettono di confermare e di localizzare con precisione al 6 gennaio il picco del valor medio della percentuale dei positivi ai test molecolari. L'analisi delle differenze settimanali indica che il picco del numero medio dei positivi totali è previsto entro i prossimi 4 giorni, osserva Sebastianelli. Come avviene di norma c'è un'accelerazione della curva dei decessi che segue con ritardo quella dei positivi avvenuta nelle ultime settimane del 2021, non si osserva invece un andamento analogo per la curva degli ingressi in terapia intensiva che al contrario sembra frenare la crescita, dice il matematico. La situazione varia da regione a regione e se l'Umbria è stata la prima regione a raggiungere il picco dei positivi il 5 gennaio, per il Friuli Venezia Giulia l'apice è atteso entro la fine di questa settimana. Gli attualmente positivi stanno all'ultimo bollettino della regione, sono 48.409. Come detto però la pressione sugli ospedali, quindi gli effetti dell'aumento dei contagi sugli ospedali continua a farsi sentire. Allora vediamo quali sono i dati aggiornati per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia. Questa è la tabella che ci riassume l'andamento dei ricoveri in terapia intensiva. 41, secondo l'ultimo bollettino della regione. Vediamo che è stato ampiamente superato il limite previsto per l'accesso alla zona arancione ormai dal 12 gennaio, si è tornati sopra quota 40 e negli ultimi giorni siamo rimasti oltre questa soglia. E poi ci sono gli altri dati, quelli dei ricoveri in area medica dove in questo momento sono ricoverati 373 pazienti covid e anche qui vediamo un dato in costante e continuo aumento. Il limite di 383 fissato per l'ingresso in zona arancione è vicino, mancano solo 10 posti. Questo per quanto riguarda gli ospedali e poi ci sono tutti gli altri numeri contenuti nel bollettino quotidiano della regione che ci fa sapere di 2.993 nuovi casi nelle ultime 24 ore su un totale di 19.502 tamponi con un indice di positività del 15,35%. Ci sono stati anche 9 decessi nelle ultime 24 ore. E poi per quanto riguarda invece le fasce d'età più colpite vediamo che il maggior numero di casi, il 22,5% si è registrato nella fascia d'età 10-19. Seguono le fasce d'età 50-59 e 40-49 con il 18 e il 17% dei nuovi contagi. Ancora un dato, quello che riguarda le positività. Nel sistema sanitario regionale ci sono 34 nuovi casi tra medici, infermieri, tecnici e operatori sociosanitari, 36 nuovi casi tra gli ospiti delle case di riposo, 19 tra gli operatori delle stesse case di riposo. E poi si parla molto anche degli effetti della pressione legata ai tamponi a casa, alle cure improprie, ai lockdown autoimposti. Secondo gli psichiatri sale l'ansia e l'effetto della pandemia fai-da-te fa aumentare i disturbi. Sentiamo. Tamponi a casa, corse a cure improprie e lockdown autoimposti. Attenzione alla pandemia fai-da-te che ha portato ad un aumento dei disturbi d'ansia tra gli italiani e le persone con disagio psichico sono più a rischio. L'allerta arriva da psichiatri ed esperti in occasione di un web forum internazionale organizzato dall'Università di Brescia e dalla Fondazione Internazionale Menarini. Tra tamponi fai-da-te, diagnosi fai-da-te e anche cure fai-da-te, gli italiani stanno infatti vivendo una nuova fase autogestita della pandemia. Test rapidi da fare a casa in farmacia e fughe dagli uffici, spesso autoimposte, al di là dei protocolli ufficiali, alimentano l'ansia anziché ridurla, dichiara Emilio Sacchetti, coordinatore scientifico del web forum e professore emerito di psichiatria all'Università di Brescia. Per superare l'ansia e il malessere che tuttora proviamo, l'adesione alla campagna di vaccinazione e l'uso delle misure di prevenzione devono però andare di pari passo, afferma, con una spinta alla socializzazione e a una nuova normalità per arginare gli effetti devastanti sulla psiche dei cittadini. Gli esperti hanno inoltre ribadito come circa il 70% della popolazione desideri essere vaccinata, il 20-25%, manifesti dubbi e il rimanente 5-10% sia nella fascia degli irriducibilmente contrari. Gli psichiatri evidenzano inoltre come Covid e salute mentale siano legati a doppio filo. Secondo un recente studio, i problemi di salute mentale e pregressi come ansia e depressione possono aumentare in media del 65% il rischio di infezione. Voltiamo pagina adesso. Il fondo di private equity Ardian acquisisce da Whitebridge Investments la maggioranza di Bio Pharma Group attiva nell'ambito dello sviluppo di integratori alimentari, dispositivi medici e cosmetici. La famiglia Scarpa, si legge in una nota che conferma le indiscrezioni circolate ieri, manterrà la sua attuale quota del 30% nel gruppo come partner di Ardian sul progetto. Maurizio Castorina continuerà a guidare l'azienda come amministratore delegato. L'operazione con Ardian, ha dichiarato Castorina, permetterà al gruppo Bio Pharma di diventare il primo global player specializzato nel settore nutraceutico. Le nuove risorse, ha aggiunto, consentiranno di proseguire l'eccellente percorso di crescita e di aggregazione valutando nuove opportunità di espansione internazionale. Il fatturato della società è passato da 30 milioni nel 2016 ai 230 attuali, la metà su mercati esteri. I prossimi anni saranno ancora più sfidanti, ha dichiarato il presidente Germano Scarpa, per posizionare il nostro gruppo a competere a livello internazionale. Salgono i prezzi e l'inflazione vola anche a Udine. A dicembre 2021 rispetto al mese precedente, l'indice generale dei prezzi al consumo in città è aumentato dello 0,6% e rispetto a dicembre 2020 del 4,3%. Lo rende noto l'ufficio statistica del comune. In un mese sono aumentate in particolare le voci ricreazione, spettacoli e cultura più 2,2%, più 1,2% anche per prodotti alimentari e bevande analcoliche, più 1% per i servizi ricettivi e di ristorazione. In calo invece le bevande alcoliche e i tabacchi, meno 0,7% e anche la voce altri beni e servizi, meno 0,4%. A livello tendenziale l'aumento maggiore si osserva alle voci abitazione, acqua, elettricità e combustibili che segna un più 15,2% su base annua, più 12,1% per quanto riguarda i trasporti. In calo le comunicazioni, meno 2,1% e l'istruzione in leggera flessione, meno 0,1%. Aumenti più marcati a Trieste con un più 0,7% a dicembre sul mese precedente e un più 5% su base annua. E rimaniamo a Trieste dove la procura ha dato il nulla osta per i funerali di Liliana Resinovic trovata senza vita il 5 gennaio nel boschetto dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni. Il corpo potrà essere sepolto ma non cremato. La procura ha spiegato che il caso non è stato ancora risolto e che se dovesse essere necessario un approfondimento o ulteriori esami sul corpo per accertare la verità della vicenda, la salma potrebbe essere riesumata. Intanto si attende l'esito degli esami tossicologici e degli accertamenti effettuati sugli oggetti trovati addosso a Liliana ai quali sta lavorando la polizia scientifica. Sulle cause della morte ancora nessuna ipotesi è stata esclusa. I funerali dovrebbero svolgersi in forma privata nella chiesa della parrocchia di San Giovanni, il rione dove Liliana Resinovic abitava con il marito. E adesso parliamo di mobbing perché questa mattina in Comune a Udine c'è stata una conferenza stampa in cui sono stati illustrati i risultati dell'attività svolta dal punto d'ascolto anti-mobbing nel 2021. Allora ci colleghiamo subito con Francesca Santoro per vedere quanto è emerso. Buongiorno Francesca. Buongiorno Angela. Casi di mobbing in aumento a Udine. Quanto è emerso dal bilancio dello sportello gestito dal Comune relativamente al 2021? Sono soprattutto le donne che hanno più di 50 anni e lavorano nel settore privato a rivolgersi a questo tipo di servizio. Nel corso del 2021 sono stati riscontrati anche diversi casi di molesti sessuali, cosa che non era avvenuta negli anni precedenti. Tutto si deve a tutti i cambiamenti che ci sono stati a causa del lockdown, della riorganizzazione lavorativa per la gestione della pandemia che ha comportato tutta una serie di cambiamenti, tra cui anche lo smart working, che non ha aiutato su questo fronte, anzi ha creato ulteriori forme di disagio. Ne abbiamo parlato con l'avvocato Teresa Dennetta che ci ha tracciato un quadro della situazione. Vediamo l'intervista e poi lì nello studio. Sportello anti-mobbing di Udine. Quali sono i dati relativi al 2021? Sicuramente c'è una grossa crescita. Nell'anno scorso avevamo 108 persone che abbiamo preso in carico, quindi con tutti i colloqui con i professionisti. Quest'anno ne abbiamo 152. Due. A cosa si deve attribuire secondo lei questo incremento? Sicuramente il malessere è cresciuto ed è stato acuito da una situazione di pandemia che ha creato maggior carichi. Quindi lo smart working che si potrebbe pensare un alleggerimento della situazione invece ha creato ulteriori disagi? Praticamente è stato percepito male sia dai lavoratori che da parte dei datori di lavoro, perché i datori di lavoro hanno percepito un imboscarsi del lavoratore. Invece il lavoratore si è sentito messo da parte magari dal posto di lavoro. La contrazione economica, quindi tagliare posti di lavoro, aggravio da parte di questi lavoratori che devono magari supplire all'assenza anche di colleghi. La richiesta sempre più pressante di attività, questo ha generato notevole malessere. C'è un identikit delle persone che si rivolgono a voi? Sicuramente una tipologia di contratto indeterminato, donna oltre ai 50 anni. Quest'anno abbiamo una buona rappresentanza in quasi tutti i settori. Quest'anno avete riscontrato anche dei casi di molestie sessuali? Sì, sicuramente quest'anno c'è un appesentimento anche di questo. Le donne subiscono molto di più degli uomini, questo aspetto. Le ipotesi sessiste, quindi le battutine, le frecciatine o fino ad arrivare a vere e proprie proposte. Anche un uomo ha denunciato molestie? Sì, la molestia è una cosa sgradevole vissuta da qualunque persona che subisce questa prevaricazione, perché è un atto violento di prevaricazione. In quanti casi riuscite ad arrivare a una buona soluzione per il lavoratore? Ho potuto rendermi conto negli anni che prima si chiede aiuto, prima si attuano delle strategie di difesa e maggiori probabilità di successo, di rimanere quindi nel posto di lavoro e migliorare la propria qualità di vita. Sicuramente è importante anche la sinergia con i medici di base, con i centri di salute mentale, cioè chi chiede aiuto al proprio medico per disagio lavorativo deve essere indirizzato al punto di ascolto, perché trova dei professionisti adeguati e soprattutto è gratuito ed è garantito anche l'anonimato. Rimaniamo in comune a Udine perché questo pomeriggio è prevista la riunione del Consiglio regionale chiamato a discutere il bilancio di previsione. In questa occasione sono stati presentati anche alcuni ordini del giorno che verranno discussi durante l'Assemblea che affrontano diverse questioni. In una nota la consigliera del Partito Democratico, Cinzia del Torre, fa sapere appunto di aver presentato un ordine del giorno sul contenimento del contagio covid negli uffici del comune. L'ordine del giorno chiede di applicare la circolare Brunetta Orlando per il lavoro flessibile e poi anche invita tutti i rappresentanti politici del comune per dare il buon esempio a presentare il Green Pass rafforzato prima di entrare negli uffici dell'ente. Al centro di un altro ordine del giorno anche la richiesta di una revoca del concorso a premi Balcone di Natale dopo le polemiche, il dibattito che si è aperto per l'ipotesi che alcuni profili che hanno votato tramite Facebook, il concorso Balcone di Natale, siano dei profili fake. E poi un altro ordine del giorno in cui il Partito Democratico chiede delle decisioni chiare sulla viabilità in centro storico a Udine. In quasi quattro anni di amministrazione, si legge nell'ordine del giorno, la Giunta e la maggioranza hanno assunto decisioni contraddittorie e non chiare per quanto riguarda la viabilità in centro storico. Siamo passati dalla totale apertura al traffico fino ai lavori di rifacimento di via Mercato Vecchio. Adesso c'è un parziale ritorno alla ZTL ma alcune vie come via Manin sono ancora percorribili in auto e poi la questione telecamere deputate al controllo degli accessi in centro ancora coperte da sacchi neri. Nessuna idea interessante, inoltre, dice l'ordine del giorno, è emersa per migliorare il servizio dei bus in centro storico. Argomenti questi su cui appunto il Partito Democratico ha presentato degli ordini del giorno e che verranno appunto discussi nel corso della seduta del Consiglio Comunale, convocata per questo pomeriggio. Siamo arrivati allo sport, cominciamo parlando di Udinese, Udinese che domani sarà chiamata a scendere di nuovo in campo in Coppa Italia contro la Lazio a Rova. Intanto si parla ancora di mercato, ne abbiamo parlato anche ieri sera nel corso dell'altra domenica con un collegamento con il direttore Collavino, allora andiamo a sentire le sue parole. Ci sarà ancora qualche operazione sul mercato? Sì, assolutamente sì, noi stiamo lavorando per questo, l'obiettivo è quello di prendere un altro giocatore, un difensore maturo che possa sostituire Samir. Benkovic è un ragazzo giovane di grande qualità e che a Udine giovane avrà l'opportunità di mettere in evidenza quelle che sono le sue qualità e che ha mostrato in passato e quindi è un acquisto che lo valuteremo in prospettiva. Siamo sul mercato, stiamo verificando la possibilità di trovare dei giocatori evidentemente pronti. Lei ha fatto dei nomi, io non li farò perché è evidente che occupandomi, facendo il direttore, occupandomi di mercato non è che posso confermare o non confermare i nomi che lei ha fatto. Ci sono tanti giocatori sotto il controllo nostro, sotto l'attenzione nostra e per la verità non dovremo fare grandissime operazioni, molte operazioni di mercato, però questa del difensore senz'altro il cerchio si chiuderà a breve. E questa mattina il direttore dell'area tecnica Pierpaolo Marino è stato ospite della trasmissione Radio Anch'io Sport su Radio Rai. Eravamo riusciti a scongiulare tutto il Covid, ha detto Marino il problema è arrivato durante le festività. Ritornando sulla partita giocata contro l'Atalanta in piena emergenza Covid, Marino ha detto che il campionato per noi è falsato, ora la classifica sembra brutta, dopo la vittoria contro il Cagliari ci ritroviamo in una classifica poco positiva oltre al fatto psicologico. Dobbiamo ricucire le ferite con un grande lavoro di Cioffi e dello staff sanitario per recuperare al meglio i giocatori. In panchina, ha detto ancora Marino, non c'erano grandi alternative se non i Primavera che da noi non sono professionisti. Per quanto riguarda la ripetizione delle partite ci sono dei casi precedenti, ha detto da un punto di vista del nostro reclamo mi sembra molto ben fondato per cui noi ci aspettiamo che su questa partita venga fatta giustizia. Intanto per il Pordinone ieri è arrivata un'altra sconfitta. Andiamo a vedere il servizio che ci racconta questo 1-0 del Lecce sul Pordenone. Nulla da fare per il Pordenone che comincia il suo 2022 con una sconfitta l'ennesima di questa stagione allo stadio Teghila di Lignano finisce 1-0 per il Lecce dopo una partita fatta di tanto cuore, tanto sacrificio ma poca concretezza. Numerosi gli esordi tra le file dei neroverdi che subiscono però la maggiore esperienza e migliore condizione dei giallorossi. Il ritmo è pressante fin da subito e al ventiquattresimo arriva il gol del vantaggio ospite. Strefezza tocca il pallone con l'esterno e Gargiule bravo ad anticipare persa e a fare 1-0 terzo gol nelle ultime cinque partite per il centrocampista del Lecce. Il Pordenone subito il colpo prova a iniziare a fare il suo gioco ma pare contratto nella manovra e libera spesso spazi per i salentini che provano ad approfittarne in contropiede. Il primo tempo si chiude quindi con i giallorossi in vantaggio ma nel secondo la musica non cambia anzi in realtà potrebbe su un contatto sospetto in area tra Butic e Rodriguez ma l'arbitro lascia proseguire al 67esimo il Pordenone, resta in 10, Pasa commette fallo, sulla trequarta e si becca il secondo giallo della sua partita. Da quel momento il Pordenone non riesce più a impenserire il Lecce fino all'assalto nel finale quando però ormai è troppo tardi finisce quindi 1-0 per gli ospiti con la squadra di Tedino che quindi resta momentaneamente al penultimo posto con due partite in più rispetto al fanalino di coda. Vicenza. Nel basket si chiude invece con una vittoria che vale anche il primo posto in classifica il girone d'andata della pallacanestro Udine. Ieri l'Old Wild West ha battuto Orzi Nuovi in trasferta 83 a 65. Andiamo a sentire il commento di coach Boniccioli al termine della gara. Noi siamo sostanzialmente in emergenza all'inizio della stagione perché abbiamo perso l'ACI i primi due mesi. Poi abbiamo perso Antonuti, ormai non si ricorda per nessuno, ma Antonuti è fuori credo dai primi novembre. Adesso si è fatto male Walters e abbiamo sempre continuato a giocare su delle principi molto semplici ma difficilmente non sempre attuabili che sono una difesa straordinaria, anche oggi questa sera 65 punti subiti e un attacco di condivisione dove un gruppo di giocatori che in qualsiasi squadra di A2 giocassero sarebbero la prima punta della squadra, hanno deciso che è bello passarsi la palla. Questa sera abbiamo creato una valanga di tiri aperti, segnandone alcuni, sbagliandone altri, ma abbiamo avuto Ebelin che ha giocato nel 4 che non è il suo ruolo per dare una mano, abbiamo avuto Esposito che ha giocato nel 5 che non è il suo ruolo per dare una mano, abbiamo avuto ancora una volta uno straordinario Francesco Pellegrino, hanno giocato tutti i minuti importanti, Vittoria Nobile ha aperto la partita nel primo tempo con una difesa su Corbett fantastica, quindi questa è veramente la vittoria della squadra in una situazione, ribadisco, di emergenza perché noi siamo senza il 4 e il 5 titolare. Finiamo il giorno d'andata, se non sbaglio, con 11 vittorie e due sconfitte di 3 punti a Treviglio che non ha mai perso in casa e di 3 punti a Cantù, finiamo il giorno d'andata prima in classifica e come diceva tanti anni fa, è un consiglio, un mio amico che viveva nel mondo della Formula 1, mi diceva che il pilota vincente è quello che quando guida la corsa non guarda mai nello specchietto retrovisore. Noi adesso dobbiamo sforzarci di non guardare mai nello specchietto retrovisore perché come ho detto i giocatori e lo dico senza nessuna presunzione, non ho mai detto all'inizio stagione che non avremmo perso mai, però d'ora in avanti abbiamo un girono di ritorno per confermare il primo posto che ha valore sia in termini logistici, cioè giocare i play-off con la quinta in casa, ma sia anche in termini di status, continuando su questo criterio, cioè il miglioramento individuale, la condizione fisica, la condivisione di un'idea che è quella l'anno prossimo di giocare un campionato diverso da questo. E vi ricordo che potrete vedere la gara tra Orzi Nuovi e Udine questo pomeriggio alle 17.15, ovviamente su Udinese TV, alle 15 invece l'appuntamento con Pomeriggio Calcio, alle 16 il TG del pomeriggio, alle 19 il TG della sera seguito dalle pillole di Fair Play, alle 19.30 e alle 21 come ogni lunedì l'appuntamento è con Udinese Tonight, a seguire l'ultima edizione del TG, il TG della notte. Noi ci fermiamo qui per questa edizione, non prima di ricordarvi, però visto che è ora di pranzo e molti di voi staranno per mettersi a mangiare o hanno appena mangiato, che oggi è la giornata mondiale della pizza. E allora vediamoci questo servizio, poi le previsioni del tempo e la sigla. Buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio a tutti. Amici di Udinese TV, un bentrovati da Luca Pace di Trebimeteo. Insiste l'alta pressione sull'Italia ed ecco così che anche la giornata di lunedì vedrà prevalenza di tempo stabile soleggiato un po' su tutto il Friuli Venezia Giulia con cieli sereni o poco nuvolosi. Entriamo più nel dettaglio per quanto riguarda le province di Pordenone e Udine. Poco da segnalare, cieli sereni e poco nuvolosi ovunque. Temperature ancora piuttosto fredde di notte al primo mattino con valori anche al di sotto dello zero, ma poi nel pomeriggio toccheremo anche punte di 8-9 gradi. Poco da segnalare anche per quanto riguarda le province di Gorizia e Trieste. Anche qui sole assoluto protagonista, temperature minime che specie nelle aree interne resteranno ancora piuttosto fredde, ma le massime invece saranno mitegradevoli ovunque, potranno anche toccare punte di 9-10 gradi. Bene, con questo è tutto, ma ulteriori dettagli vi aspettano come sempre scaricando la nostra app gratuita Trebimeteo. Trebimeteo